C'è preoccupazione tra i sindaci del Bassanese, nessuno escluso, crescono i positivi e sale l'attesa per un futuro sempre più incerto. In tutti i comuni medio-grandi attorno al capoluogo è stato sfondato il muro dei 30 positivi. A Rosà, Marostica, Cartigliano, Romano, Dezzelino l'aumento non è stato improvviso, ma graduale. Non è un'impennata, ma una crescita costante nell'ultima settimana, il che non fa certo dormire sonni tranquilli ai primi cittadini. Un esempio, a Mussolente il sindaco ha comunicato sui social quello che sta accadendo. Ieri abbiamo fatto il post proprio per comunicare ai cittadini tutti che ci sono 49 casi positivi. Oggi abbiamo già l'aggiornamento da parte dell'ASL e sono 57, quindi 8 in più. A Rosà i positivi sono 30, a Marostica 32, con un aumento progressivo da sabato scorso. A Romano sono 69, con un aumento di 39 casi nell'ultima settimana. E Mussolente è un comune con una percentuale di vaccinati tra le più basse del territorio. L'appello a invertire la situazione è d'obbligo. Mussolente è anche uno dei tassi più bassi di vaccinazione, quindi abbiamo visto che il 90% di questi 57 casi sono dovuti a persone non vaccinate. Chiedo ai miei concittadini di approcciarsi, anche chi non l'ha fatto, di approcciarsi subito a fare la prima dose per chi non l'ha fatta, la seconda dose per completare il ciclo, ma anche alla terza dose. E poi c'è Cartigliano che ha 56 casi, ma anche una buona notizia. I bambini finalmente hanno fatto ritorno in classe dopo il focolaio di covid dei giorni scorsi, che era arrivato a coinvolgere 24 bambini e 4 insegnanti. Materna e asilo nido erano rimasti prudenzialmente chiusi. Ora l'impegno è quello di tenere aperto.